C'è anche la luppoleria di Via Alberoni tra i locali del quartiere Roma multati per aver sforato l'orario di chiusura previsto dalla recente ordinanza del comune di Piacenza che impone ai bar della zona di abbassare la saracinesca a mezzanotte. La polizia municipale, intervenuta per i controlli di rito, lunedì sera ha elevato tre sanzioni. Tra questi locali c'era anche la luppoleria che però, fanno sapere i titolari, era ancora aperta dopo mezzanotte in virtù di un accordo siglato con il comune che consente un aderoga all'orario e dunque la chiusura è prevista all'una nei giorni infrasettimanali e alle due nei festivi. Si tratta di un accordo legato al progetto condiviso con l'amministrazione per la rivitalizzazione e riqualificazione della zona e in particolare dei giardini in merluzzo con attività serali e pomeridiane. È stato un malinteso, aggiungono i titolari e i gestori che confermano il clima di collaborazione proficua con il comune di Piacenza. La luppoleria aveva riaperto il 22 giugno scorso dopo quattro mesi di chiusura per il cambio di gestione. Per i locali che trasgrediscono l'ordinanza la multa è di 500 euro ridotta a 166 se si paga entro cinque giorni.